Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo undicesimo episodio dell'Elimination Nazzlock a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, nello scorso episodio siamo andati alla zona safari e abbiamo percorso la pista ciclabile catturando anche il grandissimo John Frog Era anche tempo di votazioni e in una sfida l'ultimo sangue per una differenza di 4 punti tra Fish e Suocera è stato eliminato Fish che ovviamente è stato sostituito da lui Merda, che ha l'abilità pigrone Evviva Comunque li ho allenati tutti a livello 40 perché questo punto del gioco ragazzi sarà davvero cruciale per la nostra sfida, sarà davvero difficilissimo Infatti se non sbaglio il Pokémon più forte di Koga è il 41-43 addirittura, non vorrei sbagliarmi E quindi ragazzi sarà davvero pericoloso Entriamo subito nella palestra, io vi avviso che li affronto tutti gli allenatori perché ho bisogno di allenamento Comunque ragazzi ero abbastanza sicuro che avreste eliminato Suocera, ne ero quasi certo E invece evidentemente l'avete premiata eliminando Fish che forse era anche uno dei membri più forti della squadra In questo caso in effetti mi avete svantaggiato, vabbè giusto perché il senso della challenge è proprio quello di svantaggiarmi o avvantaggiarmi a seconda di come andava Effettivamente la challenge sta andando bene quindi aveva senso, ho trovato merda figuriamoci Comunque stiamo già affrontando gli allenatori con una nonchalance tranquilla Qua gli allenatori sono di livello basso, poi vedrete il capo palestra e piangerete Il secondo Ludwisk che incontro in questa parte farà cagare sto video, me lo sento Oh Gesù Cristo, eh lo sapevo io Perché Suocera devi fallire? Ti ho appena salvato dalla votazione, ti hanno appena salvato dalla votazione, vedi di non deluderci subito Ok iniziamo anche con lui E nulla quindi questa qua penso sia la prima votazione, il primo caso di votazione sfavorevole secondo me Perché comunque Fisch era ottimo e quindi nulla, proseguiremo però anche senza di lui perché abbiamo come sostituto merda Che ragazzi c'è proprio un talismano, una divinità, che è un talismano? Ma cosa sto dicendo? Bailiff, eh cazzo, meteor pugno, ok perfetto, Bailiff giù, madonna però raga Suocera effettivamente non è malaccio Fatevi vedere le statistiche, eh se la cava, se la cava Raga direi che il nostro team è più o meno tutto fortissimo, abbiamo 5 poche, una divinità ci può stare, puro il leggendario quindi no Dimmi che Radicalbero è fisica, mannaggia a lui è speciale, a lei, cioè Radicalbero essendo una mossa, metto il pugno Ok perfetto, madonna Suocera che potenza, livello 42 se già troppo alta Io non so più cosa dire A parte che è entrato in capomerda, che bello lo sprite ma, signori miei, semaforo contro merda, ovviamente merda lo giustizierà perché è fortissimo Però raga, semaforo Comunque vedete, vedete in sidebar lo sprite che ho creato io per merda, consigliatemi qualche aggiunta che potrei fare a quello sprite Per ora gli ho messo solo l'aureola E nulla, spero che vi piaccia Ok, merda contro Smirgol Colpo karate cattivo, uh quasi shottato, all'acciaio Madonna quanto regge sto pokemon Montuono pu... c'è, 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 non lo so Madonna raga, comunque è una cosa fantastica rivederlo in campo dopo così tanto tempo, mamma mia Veramente un... una gioia del cuore Finalmente il nostro dio è tornato un po' pigro perché come avete visto dall'intro purtroppo ha festeggiato Capodanno E c'ha tanti postumi, lui che beve sull'Olimpo con i pokemon divinità, insomma Sapete no? Arceus che lo serve costantemente, poi è fastidioso Anche continuamente ricevere le preghiere di tutti noi non è affatto facile Comunque dopo aver detto tutte queste cose fantastiche Io, A, mi sono dimenticato di affrontare un allenatore B, vorrei andarmi a curare i pokemon Quindi prima affrontiamo questo qua e poi ci andiamo a curare i pokemon Vai Cosmo, è il tuo momento, fammi vedere di che pasta sei fatto Possibilmente non con tonno, non pagare la fitto, movimento sismico Tra l'altro nello scorso episodio ho sparato un mucchio di cagate, probabilmente ero ancora stanco Spero di non eguagliare questo triste record Nel frattempo Credili è morto malissimo C'hai meco Eeeh Ah, tra l'altro, ecco, un'altra cosa Ho sfruttato la mossa schizzo di merda per insegnargli extra rapido Perché ciondola adesso? Non lo so Sta di fatto che ho sfruttato la mossa schizzo per insegnargli extra rapido Ho pensato di insegnargli extra rapido perché è una mossa di priority stab per lui Che attacca sempre per prima E considerando che ha un'abilità pigro Ne potrei utilizzare merda per, fra virgolette, finire i pokemon avversari Insomma, c'è il giudizio universale Arriva lui extra rapido, colpisce per primo Poi va a dormire, giustamente perché è pigro Ok, abbiamo ottenuto la nostra cura La nostra elisir di lunga vita Sarebbe anche bello ottenere uno youtuber non impazzito Detto ciò, direi di affrontare Koga Koga che è sempre stato, nel caso non lo sapeste Visto che magari qualcuno è arrivato sul canale da poco Sempre è stato l'avatar, fra virgolette, del canale Fino a quello che ho adesso, che è stato fatto da una fan Che ringrazio, tra l'altro E quindi nulla Direi di affrontare Koga Un microbo come te osa sfidarmi Bene, ti insegnerò cos'è la paura Sono un maestro ninja Proverai la forza terrorizzante dei pokemon di tipo veleno Calmati però figliolo Io sono la tua controparte È un creepy contro creepy questa Ok, perfetto Vediamo un po' Gastly Ok, perfetto Hai preso ripetizioni da Angelo Che per chi non lo sapesse è il capopalestra di Amarantopoli a Yoto Ok, Tropius Me la rischio? Me la rischio, vai merda, è il tuo momento Facci solo Oddio, si città, che culo di merda Oddio, che culo di merda Non era voluta, ve lo giuro E addirittura regge Dinami pugno fallisce Ok, fermi A parte che Dinami pugno tecnicamente dovrei reggerlo Però adesso ciondolo Vabbè raga, io Uh Ah, interessante Mangi fuoco Ok Scottato, godo come un mufflone Scottato, tutto Fantastico, ha fallito Raga, qualcuno gli dica di smettere di usare pozioni Per piacere Dinami pugno fallisce Minchia se fai schifo però figliolo Sta accendolo E la madonna Raga, questa qua è la benedizione di merda Non è stato attaccato una volta che sia una Ok, sostituiamolo Perché adesso ciondola E non ha senso rischiare Lady Bird, al tuo momento Ok, questo è il livello 37 Quindi sono abbastanza convinto Che il suo migliore sia il livello 41 Un idroporco giù da quanto regge No, aspetta No, aspettate Sta mossa qua è infame Sta mossa qua è infame Eh Non so Cazzo No, 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 no Questo mi parte con obli... Fermo Devo curarmi perché se parte Obliderio dovrebbe essere una divinazione più forte Tipo Ok, no, perfetto L'oretta decentemente, idropompa Non fare mal comune, ok fa obliderio Cazzo c'è la siccità Ecco perché idropompa non fa nulla Non fallire, ok dovrebbe essere andato Sì, perfetto Infatti cazzo non Non ci credo A coughing, ma come Ma come hai coughing, mamma sei vergognoso Mandiamo cosmo a sto punto Ok, ho fatto taglio Stordipugno, no minchia se mi stordisci Ok, fermi tutti Ok, questo non si sa mai No cazzo, il migliore era il 43 raga, madonna Ok, perfetto, ce la siamo cavati Direi egregiamente Ora che la medaglia anima, la difesa dei tuoi Poco non aumenterai, potrai fare spacchettamenti Per chi la coglie, potrai anche superare E usare surf quando non stai lottando MT06 contiene tossina Magari, invece conterrà Una merdata sicuro Eh, Drago Artigli invece Drago Artigli, potrei insegnarla Qualcuno in effetti Ma magari mi aspetto un Pokémon Stub Magari chi lo sa Arriverà prima o poi Un tipo Drago Che potrebbe, beh no dai Siamo in terza gen Ce ne sono i tipi Draghi Flygon, Salamence, Dragonite Kingdra anche volendo Ok, allora io vi ricordo tra l'altro Che ho già un Frog nel box Quindi tanta roba Ora Noi dobbiamo andare Alla Sylph Cazzo Volo ce l'aveva Che sbatti Dovevi insegnare a qualcun altro Volo Oh Gesù Bambino Vediamo un po' Che mosse hai Eh, però Calcio Rullo Figa è Stub Allora, fermi Allora, ci facciamo la Sylph Rag, anche se l'episodio durerà tanto Vi ricordo che la Sylph È tipo un inferno Allora Potrei dargli anche un volo No, però poi cazzo dico Che poi c'è ondola Questo e non attacca Mi sa No, no, no Che cazzo dico Fatemi sapere nei commenti Gli tolgo colpo di fango Visto che ho terremoto Se puoi impararti Prego fa che tu possa imparare volo Ma vaffanculo Eh, suocera Cos'è che hai di mosse Minchia raga Non so a chi insegnarlo Cosmo lo poteva imparare Insegniamola Diamola a Cosmo E togliamogli bo Movimento sismico dai Perché tanto Tra un po' non farà più nulla No, dicevo Fatemi sapere Nel caso Se Utilizzando volo Con merda Tra l'altro Dove ancora arrivarci Zafferanopoli Eh, fatemi sapere Se utilizzando volo Con merda Si rischi Che, cioè Ciondoli e non attacchi In sostanza Oppure se magari È un modo per Eh, diciamo Trollare l'abilità Perché sinceramente Non ricordo Sono abbastanza sicuro Che l'abilità Mi impedisca di attaccare Però non vorrei Sparare una cazzata Quindi Fatemi sapere Nei commenti Comunque Come sapete Qua non si potrà passare Perché le guardie Avranno sete Ottenendo il tè Da quella vecchietta Si potrà passare Ed eccoci qua Zafferanopoli Zafferanopoli Che è stata presa Dal tbroket Ora Io Che io ricordi Non è che ci sia Molto da fare In questa città Prima di andare Alla sylph spa Che bella rima Allora Questo qua Dovrebbe essere Psichico Dovrebbe appunto Invece Invece è 29 29 29 29 29 Di Divinazione Ok Perfetto L'ho appena L'ho visto Tipo Ho avuto il flash Di cosmo Che pensavo di togliergli Divinazione Allora Qua ci siamo No Volevo ricordarmi Se ci fosse qualcosa Allora Volendo c'è il dogeolotta Però il dogeolotta Ci mettiamo poco Io direi raga Di fare la La sylph Anche se ci metteremo Magari un po' più Del previsto Nel prossimo episodio Batteremo la palestra Di Sabrina Dopo aver affrontato Il dogeolotta Perché comunque Abbiamo bisogno Di allenamento In ogni caso Ragazzi Entriamo alla sylph Vi ricordo che Questo qua È l'ultimo scontro Col team rocette Via Partiamo Allora Questo luogo qua È un inferno Nel senso che È stracolmo di teletrasporti È il classico Rifugio del team nemico E io non ho La più palida idea Di come si prosegua Quindi affronterò Un po' di reclute Magari neanche tutte Perché poi sapete Ho bisogno anche Di vivere Gulpin No è veleno Sto stronzo Devo solo usare Idropompa Perfetto Muori Ok E nulla Fatemi sapere voi Quanto ci avete messo A fare la sylph Io ricordo che Da piccolo ci mesi anni Calcio rullo Stub Quasi giù Madonna Reggono tutti Con due ps Oggi Che è sta storia Quanto vuole imparare No non sei qui Tra un attimo Ti caccio dal team Se impari sta mossa Altro che sono qui Allora Mettiamo davanti Merda ragazzi Che è il nostro dio Non so Provo ad andare qua Raga Vi assicuro Che farò tutto Tu Chissà perché Chissà Ok Non mi devo preoccupare Merda vero Ok perfetto Ok Madonna raga Mi faccio schifo Ho dubitato di una divinità Stordipugno Potenza 70 No direi di no Tra l'altro raga Dragodanza sto pokemon Se non avesse l'abilità pigrone Sarebbe davvero spettacolare Con dragodanza Purtroppo ce l'hai Quindi dragodanza Diciamo che mi viene un po' difficile Utilizzarla Perché Considerando che poi ciondola Non posso sfruttarla Al turno dopo E poi rischio Bisogna stare attenti Con merda Ora parlando seriamente Senza parlare di divinità E non è malaccio come pokemon Bisogna semplicemente stare attenti A utilizzarlo Nel modo più corretto possibile Nel frattempo Torniamo a noi Alle nostre reclute Che le stiamo prendendo a botte Io non ho Cioè Non ho idea di dove io sia John Frog Eccolo di nuovo ragazzi C'è stato tipo 15 volte In 3 episodi Va benissimo Ah tra l'altro Sì Ho sbagliato A Chiamare John Frog Nello scorso episodio Probabilmente Data la stanchezza Ho messo l'h Al posto sbagliato Però giustamente Mi avete fatto notare Che siccome È la forma alternativa Di John Frog L'h È stata spostata E quindi quello Sarà il suo nome ufficiale Ringrazio quello Che mi ha paraculato Così Se non sbaglio Dovresti essere tu Danny Grovile Mi ricordo anche il nome Perché sei uno di quelli Che commenta Di più di tutti Quindi ti saluto Già che ci sono Zapdos Ok Scintilla Non dovrebbe essere Ok Perfetto A casa Ottimo Misdrivas Madonna raga Questo qua Nella Crazy Rock Nero 2 Mi ha ucciso Dio non ricordo Mi ha ucciso sicuramente Qualcuno Nella Crazy Rock Nero 2 Misdrivas Però non riesco A ricordarmi No Siamo tornati all'inizio Non ci voglio credere Ecco Si inizia già A sclerare male Eeeh Mare a Roma Perfetto Tu Ok Il capo del Team Rocket Orribilmente crudele Per lui Paco Sono solo strumenti Se quel furfante Si impossessasse Dell'azienda Sarebbe tremendo Eh già Peccato che L'ha già fatto E noi dovremmo Sconfiggerlo Quest'oggi Tra l'altro Mi è venuto in mente Che c'è anche la battaglia Con il rivale Volendo No cazzo Pensavo di essere arrivato Nel punto giusto Raga Invece Urkujudaregjais Era da un po' Che non ti vedevo Figliolo Il grandissimo Titanic Minchia Già che non posso scappare Mi sale il nazismo Ti prego No 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 Fermi Fatemi vedere Se ho una sveglia Beh dovrei avercela In teoria Le ho finite Che bello Dai svegliati Ilix Svegliati Ilix Svegliati Ilix Svegliati Ok bravissimo A casa Siamo a 14 minuti Ho paura che questo episodio Durerà 30 anni Colpo di fango E Jugrolit Tra l'altro colpo di fango Raga prima o poi Glielo devo togliere Perché avendo già terremoto È totalmente inutile Sinceramente Cioè più che altro Vabbè In questo momento La utilizzo Perché non spreco terremoto Però di suo È abbastanza inutile Cazzo Pensavo che fossi uno Raga il Team Rocket È più pericoloso Di quanto sembri Cioè Hanno catturato L'intera popolazione Di John Frog Di eroi Cioè hanno messo Al loro servizio Gli eroi Probabilmente Gli hanno ipnotizzati Con qualche loro Marchingegno strano E adesso sono Al loro servizio Ma cos'è È una giungla Allora muori Steelix Ok battuto Questo qui Questo tetrasporto Qua sì 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 È È È È Bellissimo 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 Allora proviamo ad andare Luke Conversione cosa diventi Tipo normale Ok fermo Ti tossi Ok Calma Calma Ok Ok Cazzo no Io c'ho paura Però Allora Fermi Ragioniamo Se lui fa un altro Incendio Perde un altro Turno Giusto Sì Giusto Cioè se lui fa Incendio E io reggo Lui perde un turno Quindi poi posso Attaccarlo due volte Con extra rapido Ok Però ho fatto Conversione Diventa di tipo No cazzo C'ha la stab Incendio C'ha la stab Incendio Merda Allora Io potrei usare Extra rapido Ho paura Di non buttarlo giù Perché magari Quello di prima Era un max damage Se uso Sdoppiatore Ho paura Di non Outspeed Darlo Ok 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 Oddio Ok Apri porta Perfetto Ora dovremmo Avere la strada Pressoché spianata No a te non t'affronto Dio mio raga Però che Che roba E' stato veramente Un colpo al cuore Cioè tra tutte Le cavolo di cose Che avrebbe potuto Tra tutti i tipi Che avrebbe potuto Ottenere Se hai preso Cioè Dio mio E' riuscito a prendersi Il fuoco Con la stab Incendio Cioè pensate Che cosa sarebbe Successo Allora nel frattempo Io obiettivamente Non so dove sto andando Però adesso che ho L'apri porta Posso Sì Perfetto Ok però Gli ho visto Uno strumento Che prenderei Volentieri Sinceramente Repellente max Di qua dove si va Giusto per sapere Non ne ho idea Non mi interessa Sinceramente Tu Ma no Ma no Ma non mi hai Ma raga Ma Vabbè muori Ma non mi ha Non mi ha sfidato Quando mi ha Incrociato lo sguardo Ma che è Cazzo No l'ho tenuto in campo No 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 Non mi conviene Cosmo vai tu Per piacere Genera un turbine Muori No ha retto Tanto ventagliente Non fa nulla Cosmo Ok giù Perfetto ragazzi Siamo arrivati Da Gary Quindi prima ci sarà La battaglia con Gary E poi ci sarà La battaglia Con il capo Del team rocket Ora curiamoci Per bene i pokemon Senza badare a spese Tanto di soldi Ne abbiamo Luke curati Lady No ho sbagliato Ladybird Curati Ma si merda Curati anche tu Va Un solo ps Gli dei devono essere perfetti Eccoci qua Battaglia con Gary Perché ci hai messo Tanto creepy Sapevo che ti avrei Incontrato aspettandoti qui Suppongo che team rocket Ti abbia dato del filo Da torcere Non che mi importi Ti ho visto a zafferanopoli E volevo vedere Se ora sei più forte Signori miei Dopo tantissimo tempo Dopo la vandonia Si affronta Gary Hawk Maintain Ok Cazzo Maintain È fastidioso Perché non posso fargli un cazzo Cioè nel senso Considerando la ciondolaggine Non ho mosse Che possono fargli male In teoria Quindi switcho E mando Luke Vediamo un po' lui Cosa avrebbe fatto Gelo lancia Meno male che ho switchato Allora Extra rapido Ok Un altro extra rapido Dovresti morirci Perfetto Maintain È andato Typhlusion Typhlusion Vabbè Mando Cosmo Tanto Le mosse sono randomizzate Non dovresti avere mosse Di tipo fuoco Idropompa Ti manda giù Perfetto Dunspa Minchia Gary però Cazzo Si è andato a prenderli Proprio nei posti giusti Pokémon Idropompa Quanto regge Sto co? Era Madonna Allora Fermi Switchiamo E mandiamo Merda Te lo predito Metronomo Ok Perfetto Raffica Colpo Karate Quasi giù Metronomo Palla clima Gesù No ho sbagliato Ok Perfetto Ripeto Devo stare attento Al fatto che Merda Ciondola Mi devo ricordare Ok Calma Perfetto Perché Cazzo Metronomo È sempre fastidiosa Raga Alla fine Sono queste qua Le mosse Per le quali Si perdono Le challenge Cioè Esplosione Metronomo Autodistruzione No Inibitore No Sei una merda Ball Tanto finché Fai ball Minchia Non fallire Lady Bird Che devi Shottarlo Malissimo Ok Uh però Tentenna Che culo No Pugno spine Ok Perfetto Ok Battuto Gary Ce la siamo anche cavata Abbastanza facilmente Con un piccolo spavento Per merda Ok Questo qua dovrebbe darmi Lapras Se non sbaglio E che diventa Un Seeking Seeking E ho capito Eh Re del mare Ehm Lo chiamo Poseidon Dai Poseidon Poseidon Avrei preferito Però raga Poseidon Ok Avrei preferito Che fosse qualcosa Di molto più carino Di un semplice Seeking Eh Eh no Cazzo con lo strumento Magari poi raga Questa parte qua Me la esploro Fuori Fuori parte Scusatemi Scusate il gioco di parole La affronterò La esplorerò Scusatemi ancora Oddio Gesù Cristo Svegliati Creepy La esplorerò fuori parte La sylph Per ottenere gli strumenti Più che altro Perché tanto i membri Del team rocket Vanno via Dopo aver sconfitto Giovanni Quindi Scialla Eh A te ti devo affrontare Per forza Vero Primeape Vediamo un po' Cosa riusciamo a farti Primeape Magifuoco Morso Cattivissimo Proprio Morso di nuovo Adesso extra rapido Dovresti morirci Ok perfetto Extra rapido Cazzo D'Athias Extra rapido Stab raga È davvero utilissima Sul serio Ti faccio uno stupiatore cattivo Ok perfetto Madonna raga L'attacco fisico di Luke È allucinante Se vai fa C'è la colpo di fango Sì perfetto Anghiglia Aia Ok Extra rapido E giù anche questo Battuta anche quest'altra Recota Quindi ridai E di super pozioni Sui nostri poco Quindi curiamo merda E curiamo Luke Uno e uno due Perfetto E siamo pronti ragazzi Per affrontare Giovanni Prepariamoci Questo qua sarà L'ultimo scontro Con Giovanni In qualità di membro Del team rocket Perché poi lo affronteremo In qualità di capo palestra Ah creepy Ce ne incontriamo Il presidente e io Stiamo valutando Un affare molto importante Non ti mischiare Negli affari dei grandi O patirai le pene Dell'inferno Una delle frasi Forse più celebre Direi Patirai Le pene Dell'inferno È una delle cheat Pokemon Più incredibili E Hai un Makuita Sei abbastanza schifoso Mi fai pena Allora Proviamo un extra rapido Così su due piedi Gli facciamo abbastanza Per fortuna che Sonic Boom È proprio una mossa Da poveracci Colpo karate E questo è giù Perfetto Cleffa Però mi ha messo La divinazione Considerando che mi ha messo La divinazione Mettere suocera Che regge per 4 Mi sembra No Non regge per 4 Scherzavo Regge per 2 Comunque mi sembra Un'ottima idea Porca puttana Una bora Avrebbe seccato merda Forse Cioè magari seccato no Però Urkugida L'avete risvegliato Davvero quindi No dicevo Magari non l'avrebbe seccato Eh però Non è che puoi avere Anche Gesù Eh Fra parentesi Le suocere Non muoiono mai E sei visto Ha retto pure Un'autodistruzione Terremoto Vediamo se lo buttiamo giù Ma non penso Abbiamo un altro turno In cui si rischia Se mi tragli Efficacia per 4 Questo se mi fa 5 colpi Mi butta giù Ok Però ne ha fatti 2 Buttalo giù Ti prego Merda Ok E ci conviene Cambiare Allora Fatemi pensare Perché lui volendo Potrebbe fare anche Una mossa di tuono Considerando che io sono Acquaroccia Forse Cosmo È la scelta ideale Ah Fa sotto carico Ok perfetto Si rovina da solo In pratica Taglio e via Perfetto Non avrei mai pensato Di sconfiggere Il capo del team rocket Con taglio Sul serio Maledizione Hai mandato a monte I nostri pieni Per la sylph Ma team rocket Non cederà mai Creepy un giorno Team rocket Avrà tutti i pokemon Ricordatelo Devo andare Ma ritornerò Ok E lui dovrebbe darmi Un'altra master ball Dopo quella che abbiamo utilizzato Per merda Otteniamo anche Otteniamo anche quest'altra Pokeball Ottimo così Già che ci siamo Andiamo a vedere Seeking Andiamo a vedere Seeking Magari è buono Sì magari non nel cimitero Grazie Cioè Vabbè che fai schifo Però È per piacere Non mi piace vedere I pokemon Così Beh dai Non è un pessimo Moveset Effettivamente Statistiche ci possono stare Allora Ora devo semplicemente Capire come uscire Sarà un problema Serio Ma forse anche no Perché posso prendere L'ascensore con molta calma E andare al piano 1 Al piano terra Ok perfetto Non siamo negli Stati Uniti Il piano 1 Non è il piano terra Perché dovete sapere Che negli Stati Uniti Il piano 1 È il fottutissimo piano terra Comunque ragazzi Siamo a 25 minuti Quindi io Stoppo qui l'episodio Spero che vi sia piaciuto Se così invito Come al solito Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social In descrizione E rispondete a domande Del giorno che sarà Come al solito Qua sotto nella sidebar E noi ci becchiamo In un prossimo video